buonasera bentornati mezz'ora commessora è un graditissimo ritorno quello di mauro scardovelli mauro scardovelli bentornato subio blu che un po la tua casa esattamente proprio la mia casa bentornato a casa grazie allora mauro scardovelli per quelli nuovi quei pochissimi nuovi che si fossero messi all'ascolto proprio adesso è psicoterapeuta giurista musicoterapeuta a diciamo migliaia migliaia decine di migliaia di persone con le quali fa organizza degli incontri degli incontri per cambiare diciamo nell'ottica di un miglioramento anche dell'umanità sì e prima essendo psicoterapeuta pensavo al lavoro terapeutico che molto per di cui la maggioranza delle persone ha bisogno perché molti hanno problematiche interiori molto invasive lo si vede per esempio nel fatto che hanno difficoltà a sviluppare l'amore in famiglia coi figli col partner in generale nella loro vita non è una vita felice poi mi sono reso conto andando avanti che la psicoterapia è una piccola cosa rispetto a quello che si può fare per la psiche umana cioè per l'anima che in psicologia non si studia paradossalmente l'anima psico psiche vorrebbe dire anima in psicologia assente per cui ho cominciato a studiare a fare quegli studi lì quindi gli studi delle grandi tradizioni sapienziali che l'anima se ne occupano ho iniziato con gli studi del buddismo poi sono passato varie altre discipline il duismo e poi sono approdato più recentemente alla nostra tradizione da qui dalla quale mi era allontanato da quando avevo 22 23 anni perché ho avuto una serie di situazioni di tale difficoltà che non riuscivo a gestire ti riferisci alla tradizione cristica cristica proprio questa ma la tradizione non sto parlando della chiesa sto parlando di cristo cioè del di questa istanza di pace di bontà di amore che è il senso del messaggio del messaggio cristiano messaggio che praticamente è andato quasi perduto perché è un messaggio difficile gli esseri umani non sono pronti non erano pronti allora per ricevere una simile indicazione di vita amatevi l'un l'altro come io vi ho amato ma non riusciamo a amare ma con noi stessi oppure ama il prossimo tuo come te stesso è proprio questo il problema non ci amiamo esatto mi dice marco guzzi ma ma chi è che si ama noi ci odiamo e il nostro odio lo proiettiamo poi sugli altri sentiamo quindi psichicamente siamo messi malissimo non solo adesso si è sempre stati così allora la rivoluzione cristica iniziata duemila anni fa ma in realtà poi se andiamo a vedere questa rivoluzione è eterna non nasce nell'anno zero perché ci sono stati uomini che hanno già percepito queste cose prima di lui platone aristotele erano persone erano dei filosofi molto diversi da quello che oggi intendiamo per filosofo erano dei mistici c'erano coloro che il loro insegnamento lo facevano con la loro vita quindi poi si scrivevano qualcosa quelle cose per loro secondarie la cosa importante per loro era vivere secondo i principi che loro proclamavano quindi erano persone coerenti congruenti se dicevano qualcosa e perché la facevano era il loro modo di vivere per cui gli allievi la forza dell'esempio è quella che smuove sempre quella che smuove per cui i filosofi i primi filosofi anche prima di platone prima di socrate erano fondamentalmente dei cercatori di verità cercatori di verità bisogna andare a vedere l'oracolo di delfi la scritta sul tempio è conosci te stesso nozis auton ma che vuol dire conoscere se stessi conoscere se stessi vuol dire conoscere la propria anima cioè la propria interiorità e la propria interiorità non sono le cose accidentali c'è il carattere non so le propensioni narcisistiche o depressive o le varianti che ognuno di noi ha rispetto alla propria psiche per conoscere se stessi significa conoscere il nucleo centrale della nostra anima il nucleo centrale della nostra anima è lo spirito questo insegna lo spirito cos'è questa è una cosa interessante perché a volte non distinguiamo anima spirito ci sembrano un po la stessa cosa la stessa cosa invece c'è questa distinzione questa distinzione bene questo se andiamo a vedere i mistici più o meno facendo quelli più conosciuti distinguono l'anima umana in tre livelli l'anima animale o sensitiva l'anima intellettiva e l'anima spirituale quindi solo l'anima spirituale è tipica proprio dell'evoluzione piena dell'essere umano perché l'anima intellettiva è fatta di le cosiddette tre potenze cioè l'intelletto la volontà e la memoria però rimanendo solo su queste noi non accediamo allo spirito lo spirito è più elevato come pensiero aristotele distingueva tra nus pateticos pateticos vuol dire quel tipo di pensiero nus che comunque produce sofferenza che è inevitabile e poi c'è il nus poeticos nus poeticos poi si vuol dire creazione creativo è quel pensiero che porta l'intuizione immediata della realtà c'è un livello completamente diverso allora questo è un po' l'insegnamento dei mistici io conoscevo queste cose per aver letto avevo almeno vent'anni che me ne occupo e avevo anche vent'anni fa letto marco vannini che è filosofo italiano devo dire che ha più approfondito il tema della mistica è lo studioso più profondo di meister eckhart un mistico domenicano dell'età più o meno intorno dell'età di dante più o meno e meister eckhart marco vannini l'ha tradotto dalla lingua originale in italiano quindi è uno dei massimi esperti meister eckhart è uno dei fondatori della cosiddetta mistica eh mistica tedesca dove c'è taulero dove ci sono altri e la mistica tedesca mistica speculativa però adesso andando a cose che poi possiamo no ma sai che quando parli noi ti ascolteremo per ora quindi sì io adesso però voglio parlarvi di tutte queste cose io le avevo studiate ma si studiano tante cose ma ma poi alla fine dice ma le realizzi o no risposta no non le avevo realizzate non le avevo realizzate perché avevo capito che c'è questo c'è quell'altro però rimanevo in uno stato di coscienza che non è quello spirituale dell'anima spirituale era una valutazione ancora intellettiva era ancora una valutazione intellettiva mi è toccato passare attraverso l'inferno come del resto ha fatto dante un inferno che è durato abbastanza perché i quattro mesi di malattia che ho avuto erano malattia terminale con dolori tremendi al fegato sembrava un serpente mi mangiasse per cui ho dovuto prendere il tangesi che contiene la morfina per sopravvivere dal dolore ma anche prima di questi quattro mesi ho avuto tante delusioni no persone mi stavano accanto magari da anni e poi improvvisamente se ne andavano via io non riuscivo a capire perché poi pian pianino l'ho capito non avevano tutti i torti perché in effetti io cercavo delle cose ma ancora non le avevo realizzate cioè per esempio io provavo ancora rabbia per uno che se ne andava via o provavo ancora quelle passioni tristi di cui parla Spinoza ora questa malattia mi ha costretto per forza per sopravvivere se non sarei sopravvissuto a chiederle aiuto al Cristo proprio dicendo aiutami tu perché io non so come passare attraverso questa situazione e giorno per giorno mi sono arrivate delle intuizioni quelle di cui parla Aristotele ius poi etikos che erano non erano le intuizioni che poteva avere prima eri di altro tipo c'erano chiare intuizioni di che cosa dovevo fare per guarire e pian piano in effetti queste intuizioni mi hanno consentito di riprendermi psichicamente fisicamente e poi di sviluppare una qualità dell'amore che prima non avevo cioè l'amore che si definisce totale assoluto infinite ed eterno posso anche entrare in un dettaglio che però può essere utile io ho avuto una delusione amorosa spaventosa perché ho avuto l'incontro con la mia anima gemella un po due qualche anno due anni fa all'inizio è stato così a un certo punto quando stava concludendosi questo ha fatto così lì ho toccato il dolore più terribile che si possa incontrare perché io avevo per lei un amore totale assoluto era l'anima gemella poi si studia nella mistica come un'anima che si esprime in due corpi per cui era un pezzo della mia ma ero alla mia metà la metà la metà la metà per cui quando sento che finalmente mi incontro con la metà ho provato una gioia infinita proprio nel massimo della gioia lì sono finito in clinica dove perché ho avuto un ictus e i medici mi hanno analizzato dicendo ma tu non c'hai niente com'è possibile che sia avvenuto un ictus non gli ho potuto spiegare perché è stato un tracollo emotivo conseguenza di questa di questa ora l'allontanamento di una delle due anime gemelle è proprio nel nella storia normale delle anime gemelle quando succede così succede regolarmente che una va via quest'altro c'ha due possibilità o evolve veramente tanto per cui continuo a amare l'altra oppure veramente si ammala e poi finisce male tu ti sei ammalato ma poi ti sei evoluto mi sono ammalato ma poi mi sono evoluto e per la prima volta in vita mia ho provato per la persona che si allontanava da me anziché rabbia e rancore ho continuato a provare un amore totale assoluto infinito ed eterno per cui anche oggi quando ne parlo è la cosa che mi fa più piacere io vorrei sottolineare perché guardate che lui non parla con parole a caso eh i quattro aggettivi che sta usando che ha già falsato due volte l'ha ripetuti totale assoluto infinito eterno pazzesco è una cosa non manca niente ma niente cioè nel momento che ho provato questo io ho detto ma io potrebbe morire in questo istante ma che cosa importa perché è come se sentissi che quello che di me è veramente vivo non muore cioè non puoi comunque non ci interessa sapere cosa succede perché quando si prova questa gioia totale questa gioia totale assoluta infinita ed eterna viene percepita così per cui non ha più senso avere passioni tristi e non solo perché l'altra si è andata ma per tutte le cose della vita ora di cose negative nella nostra associazione sono successe veramente tante fortunatamente adesso per me queste cose mi interessano più allora ricordiamolo per chi magari non lo sapesse la vostra associazione si chiama alef sì alef unialef cioè l'ha ricapito lì un attimo sì l'ha ricapito si chiama unialef associazione per l'attuazione per l'attuazione della costituzione infatti uniamo la crescita personale quindi l'evoluzione personale di cui vi sto parlando ma poi la crescita della coscienza collettiva che è quella che consente di fare politica quindi questo è un aspetto molto importante perché mauro scardovelli non si occupa soltanto di risolvere i problemi personali diciamo in una maniera che adesso magari ci andrà anche a spiegare perché ci sono delle novità importanti ma quello che fa lo fa finalizzato ad un'evoluzione collettiva sociale per cui è necessario recuperare l'umanità perduta che è in noi per realizzare il mondo nuovo passando dalla realizzazione della costituzione perché non è stata realizzata diciamo sì perché la costituzione le costituzioni italiane in effetti non è un testo giuridico e basta negli suoi aspetti più profondi è come una costituzione spirituale è un testo sacro che si rifà per i suoi principi alle grandi tradizioni tra cui quella cristica ovviamente per cui la realizzazione della democrazia costituzionale più avanzata al mondo presuppone il pieno sviluppo della persona umana articolo 3 secondo comma e solo in base al pieno sviluppo della persona umana di cui parleremo fra poco allora noi possiamo immaginare di essere una comunità prima più piccola proprio fino ad essere il popolo comunità che si autogoverna che governa sul proprio territorio i costituenti avevano avuto una vista molto lunga perché non sono tante le costituzioni credo che sia forse l'unica al mondo che dice come presupposto della democrazia al pieno sviluppo della persona umana per cui oggi possiamo dire c'è democrazia ma non esiste proprio la democrazia senza il pieno sviluppo della persona umana non può avvenire perché noi siamo per natura se no conflittuali quindi su ogni cosa ci dividiamo e facciamo anche un parlamento tutta gente che si litiga invece lo pieno sviluppo della persona umana quando parleremo vedremo che è questo cioè l'unificazione delle istanze interne dalla persona sotto un io che è in grado di unificare la personalità e poi persone realizzate così allora sì che possono insieme collaborare in gruppo quindi diciamo il grande problema dei nostri tempi che è quello per cui anche chi non è d'accordo con l'attuale sistema in vigore però non riesce a mettersi insieme per raggiungere un risultato che può essere un cambiamento deriva proprio dal fatto che uno non è a posto con se stesso e quindi ha delle tensioni interne e quindi non è capace neanche di stare con gli altri tant'è vero che poi alla fine ci si divide e non si riesce esattamente questo è il tema centrale che non viene direi quasi mai trattato come sto cercando di fare adesso cioè sembra sempre che dobbiamo trovare un accordo cerchiamo di provare così provare così ma è difficile che persone disunite al proprio interno trovi un accordo perché se io trovo un accordo con te ma sono scissi in quattro pezzi è un pezzo di me che trova l'accordo basta che mi giro di là salta fuori l'altro pezzo e sono già in desaccordo subito è vero capisci? allora questa è la cosa che se venisse capita verrebbe messa al centro dell'agenda politica perché senza questo cioè almeno noi la più grande metà che dobbiamo trovare è quella con noi stessi eh sì è quella l'amore totale assoluto infinito eterno che ho provato per questa persona è quello che poi ho trovato nello stesso tempo in me nel senso che per me era così forte la cosa che poi ho trovato che è stato il mezzo di unificazione dei miei vettori quando questo è stato tenuto questo amore che è stato per me radiante ha irradiato anche me cioè è proprio amando lei che ho amato me è stato proprio qualcosa che però è qualcosa che nel nostro contesto si sta ripetendo ci sono altre persone a cui ci sta succedendo questo quindi non è una cosa così impossibile ed è devo dire meravigliosa perché a quel punto lì non c'è proprio più che non temi proprio più niente e allora a quel punto poi la vita diventa una cosa fantastica e poi diciamo che l'amore non è un sentimento per definizione egoistico mentre invece oggi nella nostra società occidentale viene, si definisce quasi come il bisogno, la dipendenza da qualcuno esattamente dal quale si finisce dipendendone per pretendere quindi è un amore che non è affatto disinteressato che è il contrario di quell'amore mistico o cristico che dicevi tu esattamente perché l'amore cristico è ti amo per nulla senza avere nulla in cambio quindi quella liberazione che ti dà questo sentimento perché l'attesa di avere qualcosa in cambio genera tensione continua quella tensione ti spacca esattamente proprio quando non c'è più quella tensione perché è come se l'amore radiante è come quello del sole raggi che vanno a 360 gradi poi incontrano un pianeta e lo illuminano il pianeta e li mandano indietro un po' di ma se anche il pianeta non c'è più il sole continua a irradiare e dov'è che c'è più luce? più calore c'è nel centro del sole quindi se il sole è dentro di noi non abbiamo più dipendenza da nessuno ma è solo in quel momento che inizia la nostra libertà prima abbiamo dipendenze dipendiamo dalla luce che ci arriva dagli altri certo ci vuole un livello di maturità anche interiore incredibile perché chi riesce oggi a... però adesso parliamo adesso parleremo anche di questo perché tu insomma quanti eventi realizzi e con quante persone mediamente in un mese? noi facciamo corsi fisicamente presenti una volta al mese in media ma poi siamo sempre presenti su YouTube e soprattutto sul Drive dove il Drive è una cosa più interna dove io tutti i giorni metto video che facciamo all'interno di una comunità che è ormai a casa nostra cioè a casa nostra abbiamo realizzato finalmente una vera comunità cioè cosa vuol dire? una comunità di persone che si vogliono aiutare reciprocamente si amano reciprocamente e sono sempre disposti ad aiutarsi quindi io il lavoro terapeutico lo faccio sempre a casa nelle volte che vado fuori perché lì è più facile ho sempre una decina di persone intorno lavoro con la persona ma questa persona sa che non è più sola ma è che c'è una comunità di una decina di persone in quel momento che sono tutte pronte a aiutarlo e io faccio il chiedo il loro aiuto che cosa hai sentito rispetto a questo che sta succedendo? anche questo è un passaggio cosmico nella nostra società perché la nostra società è la società dell'isolamento fino a 50-60 anni fa si viveva tutti in piccole case con la nonna, la zia, la cugina e il nipote e magari insomma si condividevano anche cose abbastanza intime adesso se tutti non hanno la loro scatolina personale che è la macchina il loro appartamento personale dove possibilmente barricarsi ben bene magari anche da soli perché non hanno la dolce metà si sentono non realizzate quindi la realizzazione delle nostre società è la solitudine ma nella solitudine un uomo si perde perché perde il contatto l'essere umano e un animale sociale perde la sua natura esattamente però è difficile abbandonarsi a questa dimensione uno sente di perdere qualcosa sì, adesso se vuoi ti parlo entro un po' più quanto abbiamo ancora? abbiamo, abbiamo allora guarda fra sei minuti ti interrompo che mandiamo un piccolo blocco di pubblicitario e dopo ricontinuiamo quindi comincia pure poi poi vediamo va bene allora io siccome tendo a esprimermi più facilmente infatti ti abbiamo preparato la lavagnetta sapevo che venivi per Narelloni apprezzato moltissimo allora ecco questo è il disegno che ci serve genitori e figli c'è una relazione questa relazione sarà in parte di amore e in parte no perché i genitori a loro volta in parte sono stati amati in parte no chiamiamo questa non amore lo disegno così segno di un'oppressione ognuno di voi di noi ha ricevuto qualche oppressione esempi abbandono oppure troppa sorveglianza eccesso di una mamma che è troppo presente una relazione di non amore a queste componenti abbandono troppa sorveglianza e piccoli esempi eh sì avere una madre depressa una madre depressa che non è in grado di dare o una madre narcisista che è spesso arrabbiata insomma una madre che non ti lascia andare che non ti lascia fare la tua strada ognuno o un padre magari esatto naturalmente genitori madre e padre la cosa più importante è la mamma ma il padre anche quindi allora questo chiunque ci ascolta in questo momento se ci pensa un attimo lo riconosce che dai propri genitori non è tutto andato benissimo la cosa sorprendente è un'altra noi quando come figli poi diventiamo genitori anche se non abbiamo figli perché diventiamo sicuramente genitori di noi stessi cioè e qui metto questo segnale qua bambini interiori quindi come genitori dei nostri bambini interiori cioè delle parti piccole di noi ripetiamo esattamente lo stesso tipo di oppressione quindi se abbiamo avuto una madre poco affettuosa e noi lo saremo poco nei confronti di questi se siamo sottoposti a critiche noi criticheremo e così via quindi ripetiamo le stesse cose questo è verissimo uno replica all'interno di se stesso la figura genitoriale che ha avuto per cui continua ad avere gli stessi problemi che aveva prima anche se non ha più i genitori magari esattamente allora le psicoterapie occidentali hanno fatto di tutto per risolvere questo problema qua ma non hanno veramente fino ad oggi centrato il punto chiave che non è questo questo è passato ma è quello che è presente qui ed ora spiegato questo a una persona di solito ci vuole poco tempo questo è 3-4 minuti gli posso chiedere quali tipi di mancanze di affetto ha avuto e poi la persona riconosce che nei confronti di se stesso c'è proprio le stesse a questi punti dicono nessun problema di questo perché perché qui quando un genitore non è effettuoso non è che lo fa apposta è perché è costretto a far così è meccanico faccio una chiave inglese noi meccanicamente ripetiamo le stesse cose quindi anche lui ha avuto un problema con i suoi genitori così noi anche siamo stati meccanici non siamo riusciti ad aiutare questi bimbi ci sono persone che sono diventati terapeuti abbiamo aiutato per diversi che fanno terapia agli altri e che con se stessi sono quelli di prima cioè si criticano si sottopongono a giudizi si dicono che non vanno mai bene e quindi per questi terapeuti scoprire che i problemi loro che credevano avere in parte risolto sono rimasti poco uguali sono solo un po' diminuiti sono resi conto che non possono veramente aiutare gli altri perché per aiutare gli altri bisogna che questo passaggio l'hai fatto cosa succede finché c'è questa oppressione l'interiorizzazione della figura genitoriale l'io chiamiamolo l'io governo quello che governa la personalità ha delle parti interne che funzionano così cioè l'io vorrebbe magari andare qua però questo vuole andare qua questo vuole andare qua questo vuole andare qua perché? perché questo io non riesce a parlare a queste parti è a guarirle dalle loro sofferenze la scoperta che abbiamo fatto è che se l'io comincia a parlare con queste parti in modo gentile amorevole con tutte le qualità dell'amore queste parti che prima sono chiuse bloccate si aprono all'amore dell'io cominciano a stimarlo e quindi l'io crea unione dentro di sé insomma alla fine è come se avessimo un piccolo parlamento interno che dobbiamo mettere d'accordo esattamente così cioè quello che hai detto è proprio perfetto allora riprendo questo piccolo successo in questo momento e ti fermo per qualche minuto e dopo ci spieghi questo metodo che è una vostra scoperta di una vostra di un anno di una vostra di un nucleo di ricerca interna che si chiama questo qui è un modello base modello base perché è talmente semplice allora rimanete lì perché fra poco ascolteremo che cos'è il modello base questa è la tua tv sostienila dona.bioblu.com Eccoci qua bentornati alla nostra intervista con Mauro Scardovelli discorsi interessantissimi profondi abbiamo fatto un cambio di poltrona perché giustamente visto che dovrò passare parte della trasmissione col torcicollo a guardare la lavagnetta da questa posizione mi sentivo meglio allora Mauro siamo rimasti al nostro Parlamento interiore che dobbiamo prima di tutto tacitare cioè pacificare pacificare per riuscire poi a incidere poi sul mondo esterno quindi magari anche su quello esteriore e dicevamo che nell'ultimo anno avete sviluppato un metodo che tu stesso hai definito un metodo assolutamente rivoluzionario infallibile per curare proprio questi conflitti interni che abbiamo e si chiama metodo base adesso in questi 27 minuti speriamo di riuscire a capirlo è molto facile ve l'ho già in parte spiegato cioè il focus della terapia non può essere più lasciare che la persona parli dei propri problemi perché non finisce mai o lasciare o fare anche empatia cercare di entrare nei suoi panni farli vivere il focus della terapia deve essere uno solo questo che vi ho appena indicato quindi che cosa occorre fare occorre dare all'adulto mettiamo che sei tu lavoriamo insieme tu mi hai spiegato qual è il problema che avevi in famiglia e che tu stai riproducendo a questo punto non te lo puoi risolvere da solo perché è una vita che parli così che pensi così il pensiero tuo il tuo pensiero il tuo linguaggio è quello che mantiene questa scissione tra te e le parti interne cioè tra il tuo io e le tue parti interne in realtà dovreste essere uno ma siete separati c'è un abisso tra qua e qua perché l'io non riesce a parlare con questi allora se continuiamo con questa metafora del Parlamento sarebbe come dire che lasciato nel Parlamento dove ognuno si alza e dice le sue cose come fanno adesso fanno l'intervento di 30 secondi di 2 minuti dove ognuno attacca gli altri qualcosa si risolverà in realtà non si risolve niente là e figuriamoci quindi lasciare parlare le persone significa semplicemente continuare a dare un palcoscenico ai conflitti che non hanno fine però perfetto proprio così è proprio dare parola ai conflitti che si esasperano sempre di più ora non a caso tu utilizzi la metafora che è anche la mia del Parlamento interno perché avendo fatto studi giuridici ho visto la psiche come dal punto di vista giuridico nella psiche c'è una costituzione che è lo spirito e l'anima è qua dove sono i principi universali ed eterni di cui avevo parlato prima l'amore totale assoluto infinito ed eterno sta lì lo spirito nella costituzione nella costituzione si parla di solidarietà politica economica e sociale si parla di eguaglianza si tratta di sostegno ai bisognosi agli ambienti cioè sono tutte cose che si trovano nelle tradizioni sapienziali che nella nostra costituzione in particolare nell'articolo 3 pieno sviluppo della persona umana sono esplicitati in un testo giuridico per la prima volta quindi è un testo che dal punto di vista giuridico è il più avanzato dell'umanità al quale poi si è rifatta anche la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che viene circa un anno dopo la costituzione in trimigore il primo gennaio del 48 e la dichiarazione universale nel dicembre del 48 e nella dichiarazione universale esiste anche lì la dizione pieno sviluppo della persona umana i diritti dei lavoratori tutte queste cose sono un nucleo che è eterno non è qualcosa che oggi viene un partito domani un altro cambia no la nostra costituzione dice questi sono i principi entro quali il governo può decidere ma dentro questi principi quindi il governo deve essere un attuatore della costituzione cioè colui il cui per la cosa più importante è creare delle leggi che possono realizzare concretamente i principi costituzionali ad esempio nell'articolo 4 diritto di tutti a un lavoro il compito del governo è rendere concreto questo diritto questa cosa non è possibile se messi il pareggio di bilanci in costituzione come hanno fatto governanti privi di ogni scrupolo e particolarmente ignoranti perché se metti il pareggio in costituzione economicamente non puoi ottenere la piena occupazione questo adesso è inutile insistere sono cose che per cui quindi nella metafora in cui lo spirito è la nostra costituzione come si fa? se la nostra costituzione è lo spirito come ti ho detto il governo deve applicare la costituzione nel momento in cui il governo nel nostro interno è l'io infatti lo chiamiamo io governo ora però ti ho detto prima che l'io governo è qua e l'io governo non attua affatto i principi dello spirito perché il principio dello spirito è molto semplice ama il prossimo tuo come te stesso amati gli un gli altri come io vi ho amato ma l'io non fa così perché l'io ripete le stesse problematiche dei genitori nei confronti delle parti interne allora il punto chiave che abbiamo scoperto e che ormai possiamo dire è una scoperta che si traduce in una pratica che è matematica cioè sicuro cioè se uno viene qua e c'è un problema su questo qualunque problema di tipo psichico io chiedo di solito qual è il tuo più grande problema che vuoi risolvere perché vogliamo andare al nocciolo di tutto il problema è sempre si riconosce un problema di questo tipo il tuo problema si risolverà quando tu imparerai a parlare a quella parte che rappresenta il tuo problema in modo tale per cui quella parte comincerà ad amarti adesso devo andare un po' più nei dettagli allora come facciamo a fare questo ad esempio mettiamo che tu hai un problema di abbandono per cui c'è una parte dentro di te che si sente abbandonata e quindi sarà depressa allora ti chiedo di visualizzare lasciare che emerga l'immagine di te bambino quando soffrivi per questo abbandono magari esce fuori un bambino di 3 4 5 anni allora ti chiedo a che distanza lo vedi 4 metri benissimo che età 5 anni che posizione ha e dice lo vedo rannicchiato per terra rannicchiato come e ti faccio descrivere come poi dico ti guarda no guarda proprio pavimento benissimo prima domanda che ti faccio è tu che vedi questo bambino e tu sei stato questo bambino perché quell'età che emozione sta provando mentre lo vedi così e tu mi dici per esempio prova disperazione solitudine abbandono ok e adesso a questi punti chiedo a te e tu mentre guardi questo bambino che cosa provi per lui e tu dici magari eh sì lo capisco perché sì mi sento mi sento triste se ti senti triste non lo puoi aiutare per poter aiutare questo bambino bisogna che tu stai bene è solo un adulto che sta bene che può aiutare questo bambino allora adesso ci sono ti sto facendo già una via un po' ritorniamo invece e c'è il momento la via più facile che tu quando vedi sto bambino dici mi fa molto pena e vorrei aiutarlo sento molto amore per lui questa è la via più facile se capita questa si va subito a questo punto a questo punto gli dico benissimo adesso dobbiamo solo parlare con questo bambino e io ti suggerisco le parole che gli devi dire ora queste parole sono abbastanza ormai standardizzate almeno e quindi vado sul sicuro per esempio gli dice caro bimbo vedo tutta la tua sofferenza vedo che ti senti abbandonato che ti senti solo e comprendo molto bene tutto quello che ti sta succedendo il mio più grande desiderio è poterti dare tutto l'affetto che non hai mai ricevuto quando hai detto questa frase che ti ho suggerito la prima cosa che ti chiedo è ma lo senti vero è davvero gli vuoi dare tutto l'affetto tu mi dici sì 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 è proprio così benissimo allora vai a vedere se nel bambino c'è già stato qualche piccolo movimento qualcosa che è cambiato per esempio tu mi dici sì adesso non tiene più la testa abbassata ha cominciato ad alzare la testa ha cominciato a guardarmi allora gli dico allora tu ti suggerisco di dire questo caro bimbo sono è un minuto che ti parlo sono decenni che ti ho abbandonato e tu sei subito pronta ad ascoltarmi ma nessun adulto è in grado di fare quello che fai tu tu sei veramente un'anima buona gentile sei la parte migliore di me poi quando hai detto questo ti chiedo ma ci credi a quello che ti sto dicendo e tu dici sì sì è vero io me lo sento questo a questo punto ti chiedo ancora guarda il bimbo che cosa succede il bimbo magari si alza un pochino di più e comincia a sorriderti a questo punto ti chiedo di dirgli caro bimbo il mio più grande desiderio è di poterti abbracciare portarti vicino al mio cuore e darti tutto l'affetto e l'amore che non hai mai ricevuto e allora può succedere che quel bimbo si alza magari ti viene un po' incontro ti chiede anche a te di andargli incontro insomma alla fine succede che prendi il bimbo lo porti qua questo è un caso che raramente succede così velocemente però cosa succede è quello interessante cioè quando finalmente la persona porta questo bimbo che è rimasto isolato da lui c'era un vallo in mezzo vicino al cuore regolarmente succede la commozione più profonda scendo le lacrime la persona si trasfigura perché quello è l'inizio di una nuova vita cioè fin da quel momento ha vissuto come persona scissa e quindi non poteva essere mai veramente felice ma adesso l'esilio reciproco tra te e quel bambino è finito e quindi da adesso in avanti la vostra vita comincerà in modo completamente nuovo e ti suggerisco di dirgli tu sarai il mio primo pensiero e l'ultimo pensiero al mattino e l'ultimo alla sera tu sei la cosa più importante della mia vita io non ti lascerò mai sarò sempre con te ti darò sempre tutto l'affetto finché tu non sarai completamente integrato nel mio cuore e saremo felici insieme ecco questi punti le persone sono commosse a questi punti gli chiedo adesso tra zero e dieci quanto sei contento chiedo all'adulto che mi dice dodici dodici è più di più il bambino non è mai stato così bene ecco a questi punti se le cose il lavoro è finito questo lavoro qui può durare venti minuti tra tutto tra l'inizio mezz'ora tre quarti d'ora a seconda del tipo di lavoro che bisogna fare perché con alcuni il lavoro è più lungo per esempio se tu non senti niente di particolare nei confronti di questo bambino non lo senti vicino oppure ci cadi anche tu dalla depressione bisogna fare dei passaggi per esempio ti chiederò di vedere te e il bambino da 20 metri di distanza e vedere cosa provi da 20 metri e di solito a 20 metri la persona sta già un po' meglio da 100 metri da un chilometro da 10.000 metri fino a che la persona si sente totalmente serena da quell'altezza a questo punto chiedo alla persona che è andata lassù di tornare nella tua seggio e di parlare con questo bambino allora il modello base poi si arricchido di una serie di varianti che adesso non possiamo indicare ma che chi poi vuole andare a vedere se le può andare a vedere nei nostri perché il sit il come si chiama il drive dove ci sono queste cose è aperta a tutti ecco quindi poi eventualmente poi mentre parli metteremo il link sotto sì 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 perché queste cose poi si possono noi abbiamo fatto fino ad oggi almeno almeno 300 sedute così almeno e non ce n'è una che non è una posso dirti che mentre hai raccontato tutto questo era un'esperienza talmente mistica che mi sembrava di vederlo mi sembrava di vivere quella sensazione cioè un momento assolutamente catartico ma ti volevo chiedere per ottenere questo effetto cioè per fare sì che una persona sia talmente concentrata in maniera da riflettersi su se stessa e entrare diciamo all'interno della sua psiche c'è bisogno di avvicinarla progressivamente a una dimensione quasi mesmerica cioè ipnotica o lo fa da cosciente così senza aveva preso anche persone guardi ho fatto l'ultimo seminario che ho fatto al sud a Bisceglie io ho persone che non avevo mai visto le ho chiamate sul palco lì e ho fatto subito e perché naturalmente ho anche creato una comunità cioè ho chiesto ad altre persone di venire vicino perché poi adesso non ho citato l'importanza che hanno i membri di una comunità anche temporanea che cosa succede che se tu entri dentro una che poi molto spesso la persona finisce dentro una sofferenza attraverso un inferno quando va a finire questa cosa e molte persone una certa parte delle persone si riconoscono per cui chiedo chi è che si è sentito toccato dal lavoro con Claudio e allora si alza lui si alza lui si alza lui e venite qua parla di qua nel microfono perché sospetto che se parli di là si sentirà di meno invece è molto importante è molto importante come stai dicendo quindi guarda sempre così ti rivolgi al microfono allora ripeto magari no no vai vai si può andare quindi creiamo sempre una condizione di comunità per cui si avvicinano persone che risuonano con te insomma in questo momento e allora chiederò tu che cosa provi in questo momento per Claudio e la persona dirà una grande ammirazione per il coraggio che ha per essersi seduto qua io non ce l'avrei avuto e e magari dico e poi chiedo a te Claudio e tu Claudio a questa persona che ti dice questa cosa che è positiva come ti senti con lei che cosa provi per lei è proprio riconoscenza più che mi ha detto una cosa che mi fa bene allora a tutte le persone a ognuna dico di dire una cosa a te che sia vera per loro e che in te generi un trasporto di amicizia di fratellanza per cui alla fine non siamo in due a lavorare ma siamo in una decina e loro tutti fanno parte di questo processo per cui io posso dire adesso tu Claudio non sei più da solo perché adesso fino adesso hai tentato magari di unirti a questo bambino non ci sei riuscito ma adesso sei cresciuto ancora adesso c'è una novità è una comunità di persone che ti vogliono bene e è una persona adesso che ha sufficiente esperienza per aiutarti ecco è questo di una potenza che in terapia di prima non c'era proprio quindi per questo che mentre un tempo io non amavo tantissimo il mestiere terapeuta devo proprio dirlo perché lo trovavo lento lo trovavo lungo faticoso quando da quando ho visto sto modello qua per me fare questo è ogni volta è qualcosa di che aiuta a me per primo cioè fare queste cose mi fa stare sempre meglio cioè chiunque partecipa se lo facessimo qua non solo noi due o le persone ma anche chi sta con la telecamera perché quello che andiamo a toccare sono principi universali che abitano dentro la nostra anima e per la prima volta credo poi se ci sarà qualcun altro sarebbe infelice di incontrarlo perché ne so io non l'ho ancora visti fare questo è qualcosa che genera crea una dinamo che produce amore dentro una dinamo che consuma però meno energia di quella che produce per cui l'amore si irradia sempre di più e vivere in quello stato lì è la più grande benedizione che può succedere e se posso provare a interpretare si tratta di una riconciliazione con se stessi dopo essersi abbandonati tale per cui l'ego io governo c'è la nostra parte più intellettuale più tende una mano chiede scusa e l'altra parte perdona e l'altra parte perdona perché quello che abbiamo scoperto è che i bambini sono molto veloci a perdonare basta dirgli parole vere cioè tu come adulto è inutile che gli dice ai bambini cose che non sono vere di te se tu gli dici io ti amo ti amerò sempre ma non è vero quello si prega quindi solo le parole vere riescono a toccare il cuore del bambino ma quando quelle parole arrivano al cuore del bambino ci accorgiamo che il potenziale d'amore che c'era nel bambino è sempre rimasto pronto quindi per questo che questo libro che pubblicherò con Rizzoli spero forse si chiamerà i bambini salveranno il mondo perché nessuno di noi adulto è in grado di fare quello che i bambini fanno con noi adulti sarebbe interessante fare questo percorso prima di avere un figlio probabilmente assolutamente quando fai un figlio i problemi tuoi te li li mandi tutti e quindi tocca poi a lui farlo comunque a certo punto devi fare il figlio questo lavoro ma comunque se i figli sono ancora piccoli se sono ancora se un padre o una madre fa questo lavoro i figli cambiano perché lo sentono c'è il bambino mettiamo che c'è un figlio adolescente un'adolescente magari ce l'ha con te gli adolescenti spesso ce l'ha anche il padre con le mani però se il padre o la madre fa un cambiamento e parla col figlio così come ha parlato con le sue parti interne ha finalmente capito cosa vuol dire dire la verità e se parla così con l'adolescente adulto l'adolescente abbassa le difese e si riconcilia con i genitori questo ci è accaduto tante volte ed è una cosa stupenda vederlo ecco quindi adesso io posso dire di fare il mestiere più bello del mondo cioè quello di è un mestiere non so cosa possa essere ma è quello di insomma quello che faceva Cristo ci insegnava ad amare è quello amatevi l'un l'altro come io io l'ho presa seriamente questa cosa perché perché ho avuto sono stato costretto dalle circostanze però adesso devo dire che sono veramente felice di aver fatto questo passaggio all'inferno perché non vedo niente di più bello al mondo di poter fare questo ma anche tu hai riconosciuto il tuo bambino porca mia ma il mio bambino era messo forse il peggio di tutti cioè il mio non era manco un bambino era sottoterra congelato sotto della terra ci ho dovuto lavorare ma io proprio non ascoltava manco perché era io ero uno dei messi peggio pure ho sopravvissuto ho fatto un sacco di cose ma che vuol dire ho fatto tante cose che uno può dire mi hai realizzato questo e quest'altro sono tutte inutili queste cose se non si raggiunge lo stato in cui si è unificati perché ci sarà sempre dentro un senso di fallimento qualcosa che non si è compiuto se noi non realizziamo compiere vuol dire che realizziamo la nostra unità nello spirito perché poi la unità può essere solo lì soltanto se le mie parole vengono da una fonte superiore a me qualcuno infatti come dice Guzzi spero di non aver detto niente di mio stasera che è una frase magnifica perché noi in realtà di nostro cioè delle nostre parte della nostra volontà appropriativa egoica di buono non diciamo niente noi diciamo qualcosa di buono quando diamo voce diciamo al Cristo interiore vivente dentro di noi questo è il messaggio cristiano la più difficile cosa che si possa immaginare che però si può sperimentare cioè quindi non conta se uno è atte o non è atte musulmano buddista non pensa niente se fa questa esperienza è un messaggio della tradizione sapienziale è trasversale come dicevo fa parte di quello che è eterno la mistica i grandi filosofi le grandi culture le grandi sapienze convergono tutto su questo e quindi è una cosa magnifica è di lì che ci può essere la non violenza è un uomo che ha fatto questo percorso una donna che abbiano fatto questo percorso siano tra virgolette guariti innanzitutto ti volevo chiedere se è una guarigione come dicevi tu infinita eterna oppure se poi ci sono delle ricadute allora quando facciamo un lavoro così è come se in un campo togliessimo il masso più grosso dove l'aratro andava a sbattere ma ce ne possono essere degli altri quindi se ce ne sono degli altri usciranno fuori bisogna di nuovo fare il lavoro che è però molto più breve inizialmente il modello base dura un po' adesso ci sono dei diciamo altri modelli base più piccoli che si fanno uno che è già esperto allora quello lo riesco a fare anche in una banchina qui a Milano andiamo al parco lo posso fare con chiunque se c'è già quello di prima gli dico senti qua per esempio una persona dice io sento adesso una grande tristezza perché mio figlio di qua di là o qualunque cosa ok ci siamo allora prendi la parte di te che prova questa tristezza oppure può essere anche un sintomo io provo un terribile dolore al fegato prendi la parte di te che provoca questo dolore al fegato gliela faccio rappresentare gli faccio parlare con questa parte e se è un dolore al fegato gli passa se è una parte recentemente abbiamo avuto un professore universitario non sapevo che era professore anche un grande dirigente che parla con i ministri che è venuto da noi pieno di dolori non lo sapeva alla fine stiamo stati insieme una giornata abbiamo lavorato un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio fine finito questo lavoro mi ha detto è incredibile io avevo tutta una serie di idee che erano tutte sballate ce l'ho vissuto per 40 anni ma queste nuove cose che ho preso qua sono banali sono facili e poi hanno detto ero pieno di dolori non c'ho più niente prima non potevo manco star seduto senza adesso non c'ho più niente quindi questo lavoro il futuro è anche che effettivamente va alla radice degli aspetti fisici cioè perché noi abbiamo dei dolori dei problemi nel corpo perché è la psiche che li genera attraverso i conflitti le tensioni e così via quindi possiamo dire che siamo manifestazioni di energia che dobbiamo riequilibrare esattamente esattamente siamo manifestazioni di energia ascolta io manca poco sì premesso che potremmo parlare per treventi ore ma ci tengo a farti una domanda in relazione a tutto questo tu l'uomo Scardovelli sì ti sei fatta un'idea sulla morte mi hai riflettuto che cos'è la morte adesso come la sento io la morte è un passaggio come andare a dormire cioè io mi avvelmento e mi risveglio fortunatamente con un corpo messo meglio ecco perché la mia edificazione non è più nel corpo fortunatamente perché il corpo a un certo punto non invecchia qualche frasino gli viene per forza però a questo come lo sanno i grandi per esempio i monaci tibetani c'è gente che ha fatto dei passaggi predetto anche l'ora in cui sarebbero morti non è una cosa un grande problema è in occidente siamo così attaccati alla materia che per noi l'unica cosa vera è ciò che si tocca si sente in realtà c'è una realtà più sottile che la fisica quantistica ce lo dice sono fenomeni di frequenze più elevate noi di solito crediamo che solo le frequenze proprio quelle che si sono condensate qui siano in realtà queste sì sono frequenze anche queste sono frequenze anche quelle solo di tipo più basso quelle più elevate le più elevate sono quelle spirituali c'è da fare uno studio su quello ma ne abbiamo già parlato magari sarà oggetto di una prossima puntata ok io ti ringrazio di essere venuto qua vorrevo dire a chi non era presente in studio che vi garantisco che se fosse stati qua avreste percepito una decina di minuti forse tutti pieni di assoluta ascesi mistica veramente hai raccontato qualcosa che si vedeva creando un'atmosfera che diversamente non da fuori forse non si percepisce un'ultima cosa se uno volesse venire a sciogliere a parlare al suo bambino interiore si rivolge alla tua associazione si può venire a chiamare l'associazione tanto si vede dei filmati ora come ora ci sono poche persone che ancora lo sanno fare per cui possono venire i nostri corsi ma pian piano la nostra scuola si aggiornerà e penso in breve tempo non lunghissimo saranno parecchie persone in grado di fare va bene allora mentre parli faremo scorrere qua i contatti grazie Mauro grazie grazie a te ciao grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te